Il festival della statistica della demografia è giunto alla quinta edizione. Qual è il valore di un festival di questo tipo per la città di Treviso? È un valore straordinario per il prestigio del festival e per l'importanza dei relatori che hanno fatto parte di questo festival, arrivato alla quinta edizione e che ogni anno continua a crescere. Per noi è un orgoglio mettere a disposizione la loggia, le piazze e tutte quelle strutture che possono ospitare convegni di così grande spessore e di così grande importanza per la vita di tutti i giorni e di tutti i cittadini, perché alla fine la nostra vita si basa proprio sui numeri. Sono anche contento di aver potuto lanciare insieme agli organizzatori il festival del 3 più 3, perché è la sesta edizione, quindi due volte il numero perfetto. Credo che sarà un'edizione ancora più prestigiosa che richiamerà l'attenzione di ancora più persone che già quest'anno sono state davvero numerose.